... ... ... ... ... Ci troviamo la tragedia di lunedì scorso. Palmiro a cercare ancora Gomez, posizione buona. Gomez contro Renoni. Neda Gomez, c'è tutto il vento. Guarda che si sta davanti a casa. Vedi che è finta per l'opera, per mezzo. C'è San Temini, testa Lorenzini. C'è Palmiro, prova la conclusione, c'è un gran giro. Di Palmiro a Silla. Rai, ci scelta. In mezzo con mezzo. Silla, sale e ruggio. Che è saltare per la Casertana. Vincere Russo. La parola in avanti a cercare... Salveni, attenzione, all'inteso. Poi c'è questa confusione di sguardo. Quarantissimo. La Casertana si è resa pericolosa. E stanza attenzione Salveni. Pado per Raicic. Padovino ancora Raicic. Pallono in mezzo. Padovino con il conto di testa. Poi una curvazia a Orlando. Padovino all'arco. Sentono della ripresa. Ora, prima quest'azione. Prossimo in mezzo. Alcora una lacca. Padovino con il conto di testa. Padovino con il conto di testa. Padovino con il conto di pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti.